Allora, Loredana, Massimo Vita, Laura Fedele, D'Erminio Sinni. Questo è il tuo fantastico trio. Devo dire, adesso tocca a te scegliere chi portare di loro tre in finale. Chi vuoi per primo che canti per primo? Comincio con D'Erminio Sinni. Ok, perfetto. Il mio cantautore. Il tuo cantautore. Quindi iniziamo col cantautorato. Prego, Laura, prego Massimo. Noi abbiamo seguito la tua storia, ci siamo appassionati.